Allora ragazzi parto col dirvi che questo qua non è un video organizzato, non lo dovevo neanche fare oggi lo faccio perché ho notato questa cosa qui nel cielo e ho anche notato che tutte le altre faglie, tutte le altre crepe ragazzi sono sparite e io una teoria ce l'avrei secondo me le crepe che c'erano prima sono collassate su se stesse e hanno formato questa faglia qui, questa unica faglia che è una figata pazzesca ragazzi, io ve lo voglio dire perché comunque per ora non ho ancora visto video su youtube che ne parlano e quindi niente l'ho fatto apposta, ragazzi voi cosa ne pensate? Allora non so, l'ho appena visto adesso e non ho ancora capito bene però ho visto che ci sono anche i full sì sì l'ho notato anch'io prima, te Kevin? Secondo me è l'inizio della season 6, si capisce che si sta già avvicinando sì sì, per la season 6 vabbè è ovvio ma secondo voi perché è successo? perché se notate gli estremi della nuova faglia vedete che sono come quelle vecchie sono blu sì è come quello vecchie, sono l'interno con la parte più centrale esatto, secondo me perché in questi giorni le faglie sono cambiate molto e secondo me appunto sono collassate su se stesse e hanno formato questa faglia qua ed è una figata pazzesca è bellissimo però è molto bello ragazzi sembra quando Black Goku ha tirato fuori la falce e tipo ha fatto una faglia nel cielo viola è la stessa cosa ragazzi, è Dragon Ball è Dragon Ball è Dragon Ball ragazzi è Dragon Ball su Fortnite esatto ragazzi io direi anche che questo video può concludersi qui io vi volevo sordire questo, l'avevo notato e niente, se non siete ancora iscritti iscrivetevi e noi ci rivediamo martedì con un prossimo video bella ragazzi salutati i miei amici ciao 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 ciao